Ho scritto una frase. Da chiamarci per nome. Prima che scelcessimo Dio, Lui scelse noi. Com'è nato il mio cammino vocazionale? Era pronto per partire per Orria. Tutto era preparato. Ma un giorno vede un frate e vicino a questo frate alcuni miei compagni, tra questi Padre Paolino, Padre Gennaro. E Padre Gennaro mi dice, ma perché vai altrove? Vedi i tuoi compagni. Mi aveva anche altri compagni. Dovano partire per Orria, per studiare. Vieni con noi. Ti farò andare in un paese santo. Perché santo è quel frate che sta a San Giovanni Rotondo. Ti farò andare a Piedercina. Sono corso a casa. Ho trovato mamma. E ho detto, mamma, perché non andare tra i frati Cappuccini a Piedercina? Ma, vi confesso, una lacrima ho notato sul viso di mamma. Mi abbracciò e mi disse, sì figlio mio, ti dirò questa lacrima, il motivo, dopo. Dopo, dopo che sono stato ordinato sacerdote, mamma mi disse, figlio caro, non l'ho detto mai, per non obbligarti, ma tu ero un consacrato a Sant'Antonio. Ecco perché io porto il nome di Giuseppe Antonio. Quando eri inginto di te, sono caduto all'albero, avevo paura di perderti e ho detto a Sant'Antonio, se lo salvi, è tuo e mi trovo qui. Entrato a Piedercina per Padre Pio. Oggi festeggio insieme a Padre Paolino, perché anche per causa sua sono venuto nella vita religiosa a Piedercina. Ho visto lui, ci conoscevamo da cinque anni, quando avevamo cinque anni con Padre Paolino. Non c'era l'asilo, ma andavamo anche tra i suori a prendere qualche cosa. Ecco perché voglio ringraziare i miei genitori, mamma, voglio ringraziare il papà. Ma il primo grazie, come ho detto all'inizio, è a lui, da dolore di ogni bene. Lui ci ha scelti, lui ci ha chiamati. Noi abbiamo soltanto saper rispondere, eccomi, mandami, sono pronto a servirti. E grazie a tutti. E per non dimenticare nessuno, dico soltanto grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene a tutti. Grazie. Applausi Grazie. Grazie.